Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme una torta morbida ad azzurta. Sto grattugiando la zucca, mettiamo 700 grammi di zucca grattugiata. E aggiungiamo 140 milligrammi di olio di girassoli. Mettiamo 4 ova intere. Aggiungiamo 190 grammi di zucchero di gana. Aggiungiamo le uova e il zucchero dentro alla zucca. Aggiungiamo 70 grammi di fecola di patate. E una bustina di levito per i dolci. Aggiungiamo un pizzico di sale. Aggiungiamo 30 grammi di farina 00. Lo bello. Grazie a tutti. Usiamo per la torta un stampo di 26 centimetri. Vediamo col posto dentro nella teglia. Vediamo la torta nel forno a 170 gradi. La torta è pronta, la lasciata cocere nel forno ventilato per 40 minuti. Mettiamo il zucchero a bello. Vediamo. 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 Corbida, soffice Corbida, soffice